Fedez, ovvero Federico Leonardo Lucia, sembra avere una nuova fidanzata con cui ha avviato una relazione seria. È quanto afferma il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha lanciato lo scoop e ha rivelato nuovi dettagli sulla vicenda gossip. Durante la puntata del 16 ottobre del suo programma radiofonico 100% Parpiglia, l'ex firma DC Magazine ha svelato alcuni dettagli sulla presunta unione. Tuttavia, né Federico né la presunta fidanzata hanno ancora confermato ufficialmente la relazione. Parpiglia ha spiegato che il rapper ha trovato l'amore in questi giorni e che la ragazza che lo sta supportando in questo momento difficile si chiama Vittoria. I due sono ufficialmente fidanzati, ha assicurato il giornalista, aggiungendo che la ragazza è nata nel 1997. Vittoria, mora e diversa dalla sua ex compagna Chiara Ferragni, sembra essere molto diversa da lei esteticamente. Secondo Parpiglia, la scintilla tra Fedez e Vittoria sarebbe scoccata nelle scorse settimane in Sardegna. La ragazza è milanese e proviene da una famiglia agiata, ma non famosa nel mondo dello spettacolo. Inoltre, sembra che Fedez consideri il loro legame molto serio e abbia già comunicato alle persone più vicine a lui che Vittoria non è una semplice frequentazione. Vittoria, classe 1997, è laureata in fashion marketing e ha conseguito un master in fashion e merchandising. Secondo Parpiglia, la love story tra Fedez e Vittoria sarebbe già decollata e ben avviata. Nel frattempo, Fedez ha festeggiato il suo 35esimo compleanno insieme a Vittoria, mentre si mormora che anche Chiara Ferragni abbia ritrovato l'amore con Silvio Campara, CEO di Golden Goose. Entrambi per ora hanno preferito non commentare.